Santa Cruz del Tenerife siamo al porto qualche pazzo scatenato che qui con una barca d'altura attrezzata per navigazioni oceaniche l'abbiamo trovato ma sono pochi veramente pochi sta entrando un alberrassi è sempre una bella barca molto classica armato con pilota a vento albero di maestra e albero di mezzana è sicuramente una barca ben attrezzata per l'oceno adesso farò la manovra e sarà arrivata qui al porto di Santa Cruz del Tenerife abbiamo trovato questa nave che non so quanto possa essere originale e antica non porta neanche una bandiera c'è scritto Jamestown comunque a parte quello è una barca a barcone insomma abitata comunque bella perché oltre ad avere attrezzatura con una vela a quadra insomma è proprio la velatura antica c'è ancora il fumaiolo di quelle navi che erano le prime navi a vela che mettevano un motore a vapore interessantissima comunque insomma non è tenuta leccatissima ma è in metallo ed è comunque in condizioni apparentemente almeno di navigare è tenuta abbastanza bene ciao Grazie a tutti.